Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Pio X nel quartiere del Poderino a Fano, i funerali di Silvia Gadani. L'architetto fanese di 41 anni, trovato morto a Roma il primo aprile scorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Roma Prati, che assieme ai colleghi del nucleo investigativo sono intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato nella notte da un gruppo di giovani che usciva da un locale vicino all'albero dove è stato trovato il corpo senza vita di Silvia, appeso tramite il fular che portava il collo. L'ipotesi più accreditata fin dal primo momento è quella del gesto volontario in seguito a una lite con il fidanzato Daniele, regista conosciuto a Fano ma residente a Roma. Forse causato dalla disperazione del momento, al quale però gli amici della donna stentano ancora a credere. Intanto, per far luce sulle cause, nel pomeriggio è stata eseguita l'autopsia. Sulla pagina Facebook invece continuano i commoventi messaggi di cordoglio, a dimostrazione di quanto fosse amata e apprezzata in città, non solo per la sua professione ma anche per l'impegno animalista. I soci dell'EMPA, ente per la protezione degli animali di cui Silvia ne era il presidente provinciale, promuovono una raccolta fondi per acquistare cibo da destinare ai sei gatti della 41enne rimasti orfani, a prendersi cura di loro è l'OASI, felina gestita dall'associazione Il Graffio. La donna aveva anche due cani provvisoriamente ospitati invece dai suoi amici. Il suo sogno era quello di costruire un grande rifugio EMPA per qualsiasi tipo di animale in difficoltà e magari un giorno questo sogno si potrà avverare in suo onore e ricordo.